Ciao Mirko, ecco qui il cartablet 7 pollici universale questa è la home, quando lo collegherai si accenderanno anche le luci qui di lato per gestione volume, tornare nella home, spengimento questa è la radio, avrai le stazioni in memoria, avrai l'RDS nel momento in cui colleghi in antenna gestione audio e video tramite le USB poi andiamo in gestione video youtube dovrai mettere l'account e fare l'aggiornamento qui andiamo su maps poi hai il navigatore offline, hai google adesso c'è la pellicola protettiva che poi una volta eseguita la lavorazione la potrai togliere dsp dove avrai tutte le impostazioni audio potrai eseguire lo split screen e poi torniamo in visualizzazione singola come posso ti invio la tracciabilità, ti ringrazio ah ovviamente scordavo Apple CarPlay eccolo qui, potrai gestire sia iPhone che Android per il video